ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video un'altra puntatella del format dei vostri video delle vostre collezioni di orologi che ci mostrate senza vergogna senza a volte con vergogna ma volevo dire senza remore senza rimorsi per le vostre acquisti perché solitamente quando uno fa gli acquisti ponderati ci pensa bene quindi non può pentirsi in realtà poi a volte ci pentiamo tutti scagli la prima pietra che è senza pentimento questa è una nuova e niente siamo già in periodo estivo quindi la scimmietta è diciamo che si veste d'estate c'è il costumino la scimmietta c'è il costumino e predilige i diver anche se un pochino tardi ormai però siamo d'estate e predilige i diver quindi quando vede i diver la nocciolina gli viene più più la collina in bocca capito gli viene la collina in bocca quando vede i diver e poi voi siete costretti a comprarvi i diver perché perché è perché mi serve per andare in spiaggia ma non è vero non è che ti serve per andare in spiaggia è lei che vuole andare in spiaggia con la nocciolina in bocca capito ora prima di farvi vedere l'orologino del giorno che ancora una volta il mio long jean intracron del 67 del 1967 chiaramente calibro 431 a 36.000 alternanze orarie 34 mm quadrante jambagne che ci piace tanto in questo periodo il mio orologio da riposo cioè quando arrivo a casa ti togli il diver e togli gli orologi estivi no appunto e ti metti qualcosina di discreto elegante e poco vistoso e ti alleggerisce la giornata lo dico ti alleggerisce la giornata adesso diamo il via a focale polveri barra spaziatrice pronta e indicino è pronto fuoco ciao davide complimenti per il canale che ti sei grazie canale bellissimo ti reputo una persona intelligente quanto simpatica e come vedi ma questi sono spartiti per chitarra dei dream theater in quanto anni fa spartiti per chitarra dei dream theater tanta roba è abbastanza difficile da replicare questa i dream theater sono dei miei gruppi preferiti io li ho scoperti nel 1900 non mi ricordo cosa 90 e qualcosa il primo disco il primo cd lo trovai dentro una di quelle box dove li mettevano i cd tagliati perché erano quelli a sconto mi sembra 4 mila lire lo pagare proprio perché non voleva nessuno era sconosciuto preso portato a casa ascoltato ma cambia svoltato la vita subito farlo sentire gli amici senti questi senti questi e non erano famosi e poi dopo sono arrivati gli altri dischi però qui images and words metropolis parte due scenes from memory train of thoughts e insomma tutti i bei dischi e poi vedo che c'è i cuscini come della scatola porta orologi come quella che ho io e quelli di morbidi marroncini e un paio di orologi sparsi qua e la tra cui uno da tasca ora che abbiamo guardato le tue cose sentiamo cosa hai da dire anni fa avevo un gruppo facevamo appunto cover di dream come chitarra o la music man john petrucci sicuramente conosci certo allora ti faccio vedere orologico ritrovato nei cassetti nel senso della parola forse a parte tutti i miei nonni questo mercedes da taschino appena gli ho aperto il movimento l'ho toccato è cascata in terra una ruota made in hong kong via qua c'è un quarsone un quarsone sembra di 70 direi sembra la coppia di un rado sembra la coppia di un rado qua c'è un altro quarsone sk qua c'è un isawatch o isawatch non c'è più il plexi a versione forse jumbo 37,5 mm con suo movimento qui fermo peccato non gira più c'è un picard fils e che roberto anni 50 sempre 37,5 mm questo movimento carino sia non sembra male qua mi sono in formato ho letto che era un brand svizzero che fallì come fallirono tantissimi altri brand certo bellino benit 20 mm 20 mm 20 micron d'oro quadrante di forma benit bellino calibro di il bracciale non è il suo questo magari con un cinturino da donna potrebbe anche boh ecco boh omega 35 mm eh davvero non so se sia un geneve un seamaster un constellation si capisce che il movimento gira ancora però il fondello al fondello il quadrante disintegrato qua c'è il logo omega non c'è più l'ha scritto omega gli indici ci sono ancora ma non so se vale la pena revisionarlo vale la pena revisionarlo non sappiamo nemmeno magari se è originale o se è un accrocchion o se quadrante cioè potrebbe essere anche un falso non lo so non ci spieghi nemmeno perché per come l'hai preso cioè mi dice è un lascito di qualcuno le probabilità che sia originale magari aumentano anche se beccavano i falsi anche negli anni 50 e 60 è poco anzi a volte li compravano apposta però non ci dice niente non sappiamo basterebbe togliere il vetro per vedere il quadrante un pochino perché il vetro non si vede niente una lucidata al vetro plexiglass presumono così guardiamo un po dentro com'è così non saprei a dirti guarderò bene adesso ti faccio vedere gli orologi che indosso 6x5 37 mm quel bracciale gli ho messo un zubili strap coat no 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 un orologio carino sportivo ed elegante sportivo ed elegante fa il suo fa il suo è un simpatico orologio per tutti i giorni un altro 6x5 ancora questo ha un quadrante bianco ma con delle lavorazioni che qua non si vedono carino ma sì inoltre gli ho messo questo cinturino per differenziarlo dall'altro per farlo simile dress watch peccato che come spessore sembra un tombino carino anche lui sì poi questo è un eberhard extrafort 37,5 mm ma che bello questo questo è una indossabilità bellissima certo sul mio polso da 17 bel bracciale così mamma mia che bello questo mi piace abbastanza anche a me bello orologio mi piace molto con la data ore 6 guarda lì che bello data ore 6 indici tutto pulito bracciale lucido mi piace l'onjine spirit 37 mm bravo l'ho preso a 37 perché appunto sul mio polso da 17 cm sta perfetto e dal mio punto di vista la data ossabilità seguita dall'estetica il brand la storia e infine il movimento sono le cose fondamentali ma certo questo qua d'estate un blu che è bellissimo sotto il sole invece l'inverno perde un pochino dal mio punto di vista l'inverno perde ma smettila dai omega acquaterra 36 mm quadrante argentato top top calibro 2500 versione c che c'è differenza dalla versione a versione b in quanto hanno ridotto la frequenza dalle 28.800 alternanze a 25.200 e lo scappamento qui è su due livelli scappamento su due livelli anche nel 2500 a e b equassiale c'è poi la versione definitiva era la 2500 di che li è perché i primi i primi due a e b avevano dei problemi di lubrificazione no non hanno usati in tanti orologi e poi dopo hanno risolto come sembra con l'epilamatura del dell'organo di scappamento io ho la versione a 39 con il quadrante nero l'ho fatta tutta a restaurare da assistenza ufficiale e ne sono contentissimo veramente un bel orologio a proposito e invece il calibro 2500 nella versione a o b non mi ricordo ce l'ho sul sull'omega devil e infatti ho dovuto fare farlo parte che era vent'anni che era in cassaforte quindi proprio non partivano cioè le lancette partivano poi quando estraevi la corona si ferma giustamente il lancetto a secondi inserivi la corona non partiva più con un colpito partiva era secco dentro c'era bisogno di una revisione infatti l'ho fatta fare questo è un orologio per il mio stupendo stupendo sì anche come proporzioni secondo me la versione da 36 mm perfetta sì quella 39 no quanto il datario gli indici è tutto più compatto ecco sì stai aggiunti questo mi piace molto molto dai viva quello da 39 io tifo per quello poi altro acqua terra ancora virgola 5 mm top riporto 5 8500 definitivo la definitiva magnetico spera di silicio non c'è più la cornice nella data questo si differenzia dalle versioni successivi in quanto la prima maglia qua la posso chiamare maschio senso che è lunga se da un effetto più più mascolino ecco come preferisco la lavorazione verticale del quadrante e anche la bombatura attorno alla corona mi piace molto precisissimo sette decime al giorno se questo comunque non è comunque non è il calibro definitivo questo qua perché 8500 il cavo definitivo le versioni nuove hanno il calibro ora non mi ricordo se 8.900 8.800 comunque è ancora una evoluzione è una che non che ci sia tantissima differenza nel senso viva anche 8.500 su quali orologi ce l'ho io 8.500 non me lo ricordo non me lo ricordo ce l'avevo sul seamaster diver 300 quello stile vintage ce l'avevo su quello però va bene però giusto per precisare che ora c'è 8.800 e 8.900 in produzione invece siamo sui un secondo anche un secondo buono buono poi omega constellation è rigorosamente scelto in 35 mm 35 calcolando il mio polso da 17 il 35 mm bracciale integrato che veste un po più grande sul mio polso lo vedo una chicca c'è un'eleganza mi piace tantissimo è bello si lato via io questo al calibro 2500 ma versione di di la versione definitiva scappamento su tre livelli invece le altre caratteristiche sono le medesime della versione c ok ok poi per ultimo questo nostro fondo di magazzino direttamente risuscitato dal 1965 l'origine 75 15 18 carati calibro 30 l controllato da due orologi ai specialisti di vintage è tutto originale bello tutti indici scavati nel quadrante lancette originali quadrante perfetto mamma mia che questo è veramente erano anni che cercavo un vintage in queste condizioni fortunatamente l'ho trovato complimenti 34 mm e come questo e niente davide niente per adesso questi orologi spero di riuscire a venire al meeting quest'altro anno perché sono due anni che vorrei che volevo venire ma purtroppo con il lavoro sono sempre stato impossibilitato mi spiace niente love 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 bellissima collezione di orologini che mi piacciono tutti tutti chiaramente sono un fanboy omega quando vedo tre omega così di fila due acquaterra è un constellation patapin 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 e non faccio altro che cuore aperto lacrimuccia in discesa no è per forza poi ci sono anche gli altri orologi longi spirit bello e anche qua abbiamo visto un orologio che io non avevo mai visto ma ragazzi così farò anche la figura di quello che non conosce niente ma quelle berard lì da 37,5 mm con la data a ore 6 il bracciale bello a chicconi 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 di riso chicconi di grano come era un bel bracciale lucido mi ha veramente fondello chiuso anche quello un bel fondello chiuso bello un bello orologio complimenti non l'ho mai visto d'altro non è così che voto ti diamo la collezione io ti dirai ti darei un bel otto e mezzo otto e mezzo perché orologi validi che poi rientrano anche tutti nei miei gusti perché anche il constellation che l'ho dato via e che ce l'hai mo lo vedi lo vedo e dico ma perché l'ho dato via ho fatto bello che ho preso santos dai ho diversificato un po i marchi da dire c'è che tutte misure piccole io c'avevo il constellation da 39 te da 35 cioè l'onjin spirit da 40 te da 37 tutto tutto downsize l'acqua terra c'era 39 da 36 te fai tutto downsize ognuno sceglie un pochino le misure che predilige come diceva cicciolina ok prossimo video vai ciao davide ciao agli amici del canale sono luca da brescia da circa due anni e mezzo che ho iniziato la mia raccolta di orologi che adesso vi mostro e mostraci questo è il primo orologio che ho acquistato un bulova lunar pilot un icona per per questa casa ricordato è famoso per la per la missione spaziale appollo 15 un quarzo ad alta frequenza così lo definiscono loro bello importante perché un 43 millimetri e mezzo io gli ho abbinato il suo cinturino nato che secondo me lo rende ancora più iconico iconi comunque un orologio molto bello molto che come primo orologio direi che è un buon acquisto secondo me certo proseguiamo come secondo orologio ho acquistato questo pro master full loom io non ho avuto il coraggio di mettergli il cinturino giallo però come non riconoscere la sua iconicità e con le città e due semplice iconico e bello super riconoscibile davvero davvero un bel lavoro per casa citizen con questo orologio bravo essendo qua di brescia ho fatto visita a lamberti orologiai un laboratorio orologiero qua vicino a casa mia che dire super professionale il signor luca e quando sono entrato nel suo negozio stava proprio assemblando questo modello proprio questo orologio ed è stato tra virgolette un segno del destino secondo me lo voglio lo voglio chiamare così orologio con calibro st 19 luia un assemblatore che comunque lavora molto bene che per il prezzo che propone per i suoi orologi direi che è un è un ottimo acquisto conosco poi quattro orologio regalato dalla mia ragazza sotto il mio consiglio questo timex expedition su amazon con la sua funzione indiglo diciamo che è l'unica casa che propone questa funzione tra virgolette indiglo molto interessante lo volevo per questa per questa funzione comunque orologio semplicissimo dal costo irrisorio cassa in resina plastica che comunque un stile militare comunque molto molto bello ecco molto molto bello bravo siamo ad orologi un attimino più importanti questo qua l'ho acquistato da giacomo la gioielleria pasquali dominici eccolo lì il rado golden horse colorazione verde 1957 pezzi al mondo per questa edizione limitata bracciale a chicchi di riso spettacolare luccicante in ogni suo angolo orologio sottilissimo è un orologio gioiello come lo definiscono in tanti ed è proprio vero è un orologio spettacolare ti devi proprio pentire di averlo ben bevuto davide no scherzo però comunque è veramente un orologio molto molto bello bello in ogni sua singola parte e iconico non altro orologio cartier santos 100 calibro 28 92 uscito nel 2008 per i cento anni del del santos è un orologio che trasciuda eleganza da tutte da tutte le parti da tutte le parti cinturini in pelle e misura questa qui è una misura media la sua chiusura comunque è un orologio veramente veramente bello è iconico elegantissimo ultimo ma non ultimo no a brian cronomat top acquistato da poco questa è la versione che mi piace a me bracciale rullo lo detto bene comunque è un orologio meraviglioso trasuda 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 anni 90 da tutti da tutti i suoi suoi i pori pori comunque spettacolare cavalieri in oro pulsanti penso che siano placcati incamiciati calibro valgiu 77 50 un'icona di casa brightling icona bravo orologio veramente meraviglioso comodissimo il suo bracciale acquistato da veramente poco ci piace ci piace nulla niente veramente iconico mi ci perdo ogni tanto a guardarlo bravo bellissimo bravissimo poi ho finito ti volevo chiedere un consiglio vorrei acquistare nella mia prossima prossimo acquisto vorrei che fosse un un omega un omega sono indeciso se acquistare il simaster quello del 75esimo anniversario oppure un simaster classico come come il tuo tu cosa ne pensi comunque un simaster un simaster ciao a tutti gli amici del canale e ciao davide ciao e ti auguro una buona serata si chiudi love 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 il simaster 300 il diver probabilmente il professional come il mio si quindi non è non è probabilmente come il mio quello del 75esimo anniversario dovrebbe essere quello con il quadrante azzurro celeste blu orologio credo che cambi solamente il colore o forse anche il fondello chiuso ci avrà non lo so non me lo ricordo è questo io non lo so mi stai parlando di due versioni differenti dello stesso orologio quale scelgo quello con il quadrante nero quello con il quadrante blu quello con il fondello aperto e sarà un po un minimo di scelta falla a te perché io non saprei io il mio l'ho preso anche perché ho trovato un'occasione così al volo puff no non è che ho scelto tra blu e nero che sarebbero due papabili ma anche il bianco non è male adesso il master 300 ragazzi non è male ecco magari con il bianco con un cinturino in cauccio nero farebbe anche il suo come si suol dire non lo so scegli te probabilmente quello del 75esimo anniversario sarà in limited edition quindi costa anche di più non vedo perché spendere dei soldi di più per io non sono tanto per il limited edition hai capito ecco l'unico suggerimento che ti posso dare è di andare su quelli a catalogo che sono lì fissi no invece che andare a prendere quelli particolari io penso così va bene comunque tutti i belli orologi e per il resto tutti i orologi di vari livelli timex quartzone con la casa in resina ce l'ho anch'io tutti simpaticissimi il santo si io ce l'ho un modello differente ma ce l'ho anch'io un bel set la collezione non glielo leva nessuno dai tra l'altro c'hai la versione del bridling cronomat proprio quella che io ritengo iconica perché no per antonomasia quella lì quadrante blu e sottocontatori a contrasto il bagacciale a volo volo bellissimo prima o poi prima di morire lo sfizio ce lo leviamo però per ogni tanto andiamo avanti la scimietta qua vede quando vede il bright nella scimietta qua si sveglia mi dà i copettoni qua mi dà e dice oh capito però io la tengo a bada io la tengo a bada mica come voi ciao davide ciao a tutti faccio questo video per la terza volta prima mi è chieduta l'impalcatura che paccato sugli orologi ho tirato quattro parolacce poi mi sono impappinato ma come fai ma come fai tu allora questo è il mio secondo video 30 agosto 2023 per chi volesse recuperarlo il giorno in cui tu l'hai pubblicato mostravo questa mia collezione ma manca un orologio manca un seico 5 che dei maledettissimi ladri ma non rubato entrando in casa ma pensa a te fortunatamente non c'era lui tagoyer ah guarda che merda io lo odoro questo orologio sempre di più guarda che cassa che simpatico 300 metri è super super fortunatamente era con me c'era invece il citizen chronopilot radio controllato non se lo sono filati di station c'era anche il nautica bing gmt pesa un quintale forse per quello che non hanno portato via anzi per chi eventualmente volesse togliermi l'imbarazzo e il peso io lo uso appunto come contrappeso c'era anche l'SKX che non si sono filati di striscio nemmeno per questo hanno preferito il 6.5 evidentemente forse perché secondo me assomigliava un po rolex ma c'è scritto 6 fortunatamente eccolo qua l'SKX che continui a usare con questo tropic bianco c'è tra niente il tropic bianco ora lasciamo perdere ma certi tutti sono entrati i ladri in casa avevi tutti gli orologi li facevano prima a chiudere la scatola portarli via tutti no non si sa mai per non sbagliare li prendiamo tutti poi vediamo cosa c'è hanno preso uno solo e il 6.5 l'hanno scelto questo qua il 6.5 hanno iniziato a fare i anni 60 si si il 6.5 prendiamo il 6.5 preso 6.5 e questo qua l'SKX l'hanno lasciato qua che stranezza comunque vedo che la scatola porta orologi è quella che utilizzo anche io e che utilizzano tanti amici del canale quella consigliata perché quella con i cuscini morbidi belli e gli spazi sono più larghi lo vedete nella scatola bella morbido cosa ne pensi per me ci sta tutto mi accompagnerà il mare quest'estate bravo estate ora e allora ti mando questo video per mostrarti un long jean mai visto sul canale eh non ti ho detto che sono Stefano di Verona ciao sono Stefano di Verona ecco fatto ecco questo pezzo straordinario long jean spilman è comprato nos qualche mese fa metà anni 90 si chiama spilman perché deve avere un brevetto di una cassa disegnata da un'azienda produttrice di casse fondata nella fine ottocento da un certo char rodolf spilman boh è un allora qua io vedo però bello sto orologio qua anni 90 si vede perché la lunetta così lucida con i numeri incisi con la scalata achimmetrica incisa è veramente una caratteristica di tantissimi orologi di quel periodo lì e anche vai a prendere gli speedmaster automatici di quel periodo lì sono così ma anche i palliot 3 31 33 tutti la la ghiera così lucida abbastanza però è bello e non mi sembra nemmeno questo qua sarà un 77 53 penso come calibro non dovrebbe essere quello modulare in teoria ho visto di fianco che corona e pulsanti sono allineati ed è bello è bianco ma si legge bene bello ha fatto un bello ha fatto un bel acchiappa ecco fatto un altro orologio che io non conoscevo non avevo mai visto spero che anche voi condividiate con me questa sorpresa non voglio essere l'unico che non conosce gli orologi anche voi non lo conoscevate vero 38 mm 10 atmosfere addirittura corona a vite guarda dietro bello dietro sul fondello super bellosi l7994 bellissimo leggibilità ma è discreta potrebbe essere anche peggio c'è la condizione di luce qui non è neanche male va bene allora la referenza è l 99 6.4 da cercare un calibro rogin 669 che non è altro che un va giù 77 50 molto modificato per portare i contatori a 369 come piace tanto a me 7 7 5 3 per me è straordinario allo scatto fantasma o meglio di indietro una guarda questa ghiera a proposito guarda questa trambata che gli ho dato io qua si vede l'hai dato se qualcuno vuoi darmi un consiglio per come sistemare nella cosa qua quanto può costare penso che sia sistemabile cioè lo spero lo spero allora ha tutto il suo corredo perché chiaramente è un è un nos quindi la sua la sua contro scatola la scatola originale guarda l'acqua tipica longin di quegli anni e io gli ho montato questo cinturino in pelle carino con aftermarket una chiusura a farfalla ma me l'hanno venduto con l'originale cinturino in pelle di squalo blu bello che roba metà anni 90 pelle di squalo fibbia logata tutto il suo suo corredo perfetto io sono contentissimo di questo orologio e tu che sei un stimatore longin dimmi cosa ne pensi ne penso bene hai un po la qui nella in bocca sì sì dai ti ringrazio allora per pubblicare questo video ci fermiamo qui dove il mio casetto mi dice che siamo a 4 minuti e 16 e prossimamente acquisterò un spero prossimamente un nomos ludwig per situazioni così formali e prossimamente successivamente uno squale bravo penso che così la mia collezione sarà completata un salutino anche allongin anni 70 tanto usa mia moglie e saluto mi raccomando non smettere di fare questi video che noi ci divertiamo sempre un sacco va bene va bene love hai rovinato tutto c'è tanta poesia con il longin new old stock cioè fondo di magazzino calibro 77 53 e poi adesso il tempo è finito tiri fuori il quarzon e l'occasion clic 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 ma dovevi cogliere la palla al balzo quando la mela è matura e utilizzare il cronografo della longin per tenere il tempo non lo facevi partire già all'inizio e poi quando me lo mostravi ecco qua stiamo tenendo già il tempo della registrazione adesso lo fermo tuc lo resettavi plof e noi eravamo tutti contenti anche la scimmetta guarda le lancette che girano lei è contenta gli girano le le pupille le pupille gustative li girano quando vede le lancette no invece no col quarzù va bene comunque bello quello longin lì mi piace tanto 38 mm detto si vedeva che i contattori erano bene agli estremi del quadrante eh sì ci piaceva tanto quanto l'hai pagato non lo so un po di soldina avrei pagato perché a gratis non te li danno si che qualcosina avrei speso va bene io ti dico ma non so non saprei un 6 e mezzo ti do un 6 e mezzo perché perché non ho ancora dato un voto basso e purtroppo sei arrivato te e ti becchi il voto basso perché ogni tanto lo devo dare un voto un po basso no stronde cosa c'avevi sì tutti quelli che non che non ti hanno voluto rubare quindi se non te li hanno voluti rubare ho ragione io di darti il voto basso capito l'SKX poi col centrino bianco un si può guardare comunque va se promosso questo aspettiamo altri video così ci rallegri la giornata dai ragazzi basta questo guarda al terzo oggi tre video ho deciso tre video quindi mettetevi l'anima in pace anche te mettiti l'anima in pace scimmietta non ce ne sono più di video vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi siano piaciuti tutti questi video messi insieme io vi devo lasciare per andare a vedere i gattini su instagram perché sono la che mi aspettano miau miau io sfoglio i video e si vedono questi qua che saltano si arrampicano secondo me i gatti saranno il futuro dell'umanità cioè quando l'umanità scomparirà i gatti ancora regneranno sovrani vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao